buongiorno a tutti e ben trovati sul mio canale come avete letto come avete capito dal titolo oggi voglio parlarvi di un sito molto interessante per noi beauty addicted per noi appassionate di prodotti per la cura di viso corpo capelli make up eccetera eccetera si tratta di un sito che io in realtà non conoscevo e che ho scoperto proprio quando sono stata contattata per questa collaborazione le luna.it è un negozio online di prodotti di bellezza e cosmetica di alta qualità di alta qualità non si tratta del classico shop gestione familiare ma di una multinazionale che opera già dal 2009 e che si propone di importare in italia nuovi brand e prodotti che da noi non sono ancora in commercio gli uffici il servizio clienti il magazzino le luna si trovano nel cuore di londra ciò significa che tutti i prodotti vengono spediti da quell'area ci sono diverse opzioni di spedizione post italiane bartolini per esempio anche ups ed è disponibile anche il pagamento alla consegna il catalogo dei prodotti è davvero molto variegato i prodotti sono sicuramente di fascia medio alta e di alta qualità troviamo dal make up ai prodotti per il trattamento dei capelli anche anti caduta ci sono tantissimi prodotti per la cura del viso del corpo anche dei denti accessori dispositivi elettrici per la depilazione per i capelli anti rughe e c'è anche una sezione dedicata ai maschietti quindi davvero un sito ricco di proposte interessanti tutto da scoprire i prodotti e anche i brand presenti sul sito le luna vengono scelti accuratamente da esperti del settore che selezionano per noi il meglio cercando anche di anticipare le tendenze particolare attenzione è rivolta anche a servizio clienti che è pronto a rispondere alle vostre domande e perplessità sei giorni a settimana sia telefonicamente che via chat sul sito oltre ovviamente che per email ho avuto la possibilità di scegliere che cosa provare e ho scelto tre prodotti del brand eco masters questo di oggi è semplicemente un video haul quindi adesso vi mostrerò rapidamente i prodotti che ho ricevuto e che proverò nelle prossime settimane chiaramente vi farò sapere cosa ne penso dopo aver provato il tutto eco masters è un brand inglese un brand inglese che propone una linea di prodotti di lusso per risolvere i vari problemi di pelle garantendo sempre i più alti standard di più elevati standard di mercato l'obiettivo di eco masters è quello di progettare quindi prodotti di bellezza ma anche dispositivi come per esempio il dermaroller il celebre dermaroller utilizzando ingredienti e terapie 100 per cento naturali in modo da essere sicuri quando si utilizzano quindi nessun rischio di reazioni allergiche con i prodotti eco masters perché non contengono sostanze chimiche dannose tra gli accessori elettrici per capelli ho scelto questo prodotto che è praticamente una spazzola lisciante si chiama eco masters air straightener brush e ha un costo di 59 euro e 95 e quindi una 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 spazzola lisciante per capelli lisci in cinque minuti si tratta di un prodotto che mi incuriosisce tantissimo anche perché per me è un'assoluta novità io non ne ho mai provata una ed è quindi un dispositivo che combina l'azione di una spazzola con quella di una piastra lisciante e promette capelli lisci direi di lisciare quindi capelli in modo semplice e veloce la scatola esterna è questa ed è assolutamente ben fatta è una scatola in cartoncino rigido dotata di chiusura magnetica e la spazzola è fatta in questo modo come vedete è veramente molto bella esteticamente insomma indubbiamente un bel design è tutta bianco ghiaccio anche se in realtà non è semplicemente bianca perché se la guardate da vicino nel dettaglio e si nota che ha un particolare effetto iridescente sui toni dell'azzurro del rosa e dell'argento è dotata di impugnatura ergonomica e antiscivolo e anche di 54 setole in ceramica questa spazzola grazie alle alte temperature che riesce a raggiungere liscia i capelli all'ultimo però senza danneggiarli questa è una cosa molto importante e grazie alla qualità della piastra 100 per cento in ceramica che si riscalda in modo uniforme e che dona ai capelli un aspetto liscio setoso brillante sano eliminando anche l'effetto crespo si riscalda rapidamente raggiunge 180 gradi in circa un minuto quindi è pronta all'uso davvero in pochi secondi e questo mi sembra un aspetto molto positivo e adatta a tutti i tipi di capelli mantiene la temperatura costante è dotata di una funzione di spegnimento automatico di sicurezza in più la temperatura è regolabile quindi si può personalizzare 210 gradi per capelli normali 230 gradi invece per capelli spessi o ondulati mi incuriosisce moltissimo questo prodotto perché perché io i capelli lisci capelli lisci più che altro sono sottili in buona sostanza e quando utilizzo la piastra utilizzo molto spesso devo dire ho una ghd da tanti anni insomma l'ho comprato quando mio figlio aveva forse pochi mesi adesso a dieci anni ancora funziona tra l'altro una piastra davvero di grande qualità sicuramente ottengo un bel risultato perché comunque è un risultato ordinato elimino l'effetto crespo però non amo quell'effetto completamente piatto questo strumento invece dovrebbe lisciare i capelli ma nel contempo non appiattirli quindi mantenere il loro volume naturale quindi l'effetto finale insomma dovrebbero risultare più gonfi e voluminosi è un prodotto questo che proverò sicuramente presto e vi farò sapere quindi senza dubbio se fa se mantiene quindi le sue promesse anche il secondo prodotto che ho scelto è uno strumento davvero molto interessante si chiama eco master special steamer è una sauna facciale che ha un costo di 59 euro e 99 centesimi si tratta di uno strumento quindi di un dispositivo di ultima generazione che consente di fare la pulizia del viso comodamente a casa nostra in dieci minuti che offre due vantaggi nello stesso tempo pulisce la pelle in profondità e offre un piacevole momento rilassante il trattamento con il vapore aiuta ad aprire i pori e ammorbidisce la pelle favorendo la rimozione di cellule morte impurità sebo in eccesso punti neri per una pelle fresca e levigata offre praticamente gli stessi vantaggi di un trattamento quindi di una pulizia del viso effettuato in un centro estetico ma nel comfort di casa ed è un trattamento quotidiano ideale per avere una pelle sempre pulita sana luminosa anche perché riduce l'insorgere delle imperfezioni senza quindi l'ausilio di prodotti chimici in più è un valido aiuto per decongestionare le vie respiratorie e liberare il naso in caso di influenza o raffreddore donando subito immediato sollievo arriva all'interno di questa scatola di questa scatola in nero opaco con questo bellissimo disegno di volto femminile invece ad effetto lucido il dispositivo è questo quindi è davvero leggero e molto compatto quindi sicuramente facile e ideale da portare con sé anche in viaggio è tutto bianco a parte questa e questo inserto quindi questo manico dorato che consente di trasportarlo comodamente a mano ed è dotato di grande tasto di accensione spegnimento sulla parte frontale come si utilizza è molto semplice bisogna semplicemente praticamente riempire il serbatoio con acqua depurata posizionare il serbatoio all'interno del dispositivo e accenderlo il vapore comincerà ad apparire dopo soli 15 secondi la sauna facciale va posizionata a circa 20 cm dal viso il trattamento ha una durata di 8 10 minuti al termine dei quali bisogna semplicemente spegnere il dispositivo e lavare il viso quindi tutto qua le lano particelle di vapore durante il trattamento penetrano nella pelle aprono i pori e li liberano praticamente i pori estruiti in profondità il l'utilizzo praticamente quindi regolare di questo prodotto va a purificare la pelle in modo completamente naturale ma anche professionale e la pelle poi dopo il trattamento libera dall'impurità è pronta a questa è una cosa davvero molto importante è pronta ad assorbire più velocemente tutti i principi attivi dei prodotti che andremo dopo praticamente ad applicare che risulteranno quindi anche più efficaci quindi anche questo è un prodotto sicuramente molto interessante che non vedo l'ora di mettere alla prova l'ultimo prodotto che ho scelto infine si chiama eco masters fashion ed è un kit viso che ha un costo di 44 euro e 95 centesimi e che contiene in questa splendida confezione direi molto professionale e nello specifico vado a prenderla sperando di non combinare disastri quindi questa busta con 500 grammi di finissima argilla in polvere per circa 25 maschere e poi praticamente una speciale crema nutriente post maschera in basetto quindi da 50 grammi ricca di olio di cumino nero si tratta praticamente di un trattamento purificante naturale quindi al cento per cento per una pelle più bella sana praticamente pulita e anche nutrita in profondità la deep clay e la deep clay quindi la maschera all'argilla insomma deep clay face mask può essere utilizzata sia dalle pelli miste oleose che dalle pelli secche praticamente sensibili trovate le precise indicazioni quindi per l'utilizzo sulla confezione perché chiaramente cambiano i tempi di posa insomma chi ha la pelle secca deve rimuoverla prima che si asciughi completamente come si utilizza è molto semplice bisogna mescolare 20 grammi di argilla con 60 ml di acqua in un contenitore non metallico quindi per preparare la maschera dopodiché bisogna applicare uno strato di 2 3 mm di maschera sul viso rilassarsi per il tempo di posa e dopodiché semplicemente lavar via la maschera con acqua calda poi secondo step molto importante bisogna applicare quindi e massaggiare delicatamente la maschera la crema quindi post maschera idratante e nutriente sulla pelle quindi perfettamente purificata grazie al potere dell'argilla tra l'altro l'argilla utilizzata in questo trattamento ho letto che viene estratta dalla valle comenda in slovenia l'argilla grigio slovena sembra abbia delle proprietà quasi miracolose e che aiuti a combattere dei problemi come eczemi anche rosacea e arrossamenti e questo è tutto quindi vi consiglio assolutamente di fare un giro su questo sito insomma secondo me vale assolutamente la pena e scoprirete una realtà davvero molto interessante questo è un sito fantastico per noi appassionate proprio di beauty di skin care sempre alla ricerca di novità di prodotti interessanti e innovativi da provare io chiaramente ringrazio le luna per l'opportunità di provare questi prodotti spero di esservi stata utile vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima